Si conclude il ruolo di primario protempore di Umberto Ignudi dal coordinamento del pronto soccorso di Pesero, ma non riparte quello di Stefano Loffreda che deteneva la titolarità della gestione del reparto d'emergenza dell'ospedale San Salvatore. Loffreda è infatti rimasto a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, dove a gennaio 2020 assunse un incarico spedaliero, incarico che verrà protratto almeno altri sei mesi. Tempi che però non si conciliano con la fine dei suoi due anni di aspettativa da Marche Nord terminata pochi giorni fa. Contestualmente sono decadute le mansioni da direttore facente funzioni di Umberto Ignudi, che fu messo a capo del pronto soccorso nel momento più violento della prima ondata di Covid-19 e lì è rimasto nel gestire una burrasca pandemica che l'ha travolto in ogni declinazione di criticità. Dal sovraccarico di malati contagiati ai deplorevoli episodi di aggressione sanitaria fino alla strutturale carenza di personale e, da ultimo, lo tsunami mediatico delle dichiarazioni avverse ai Novax che hanno fatto il Giro d'Italia. Ora, gli udici dell'incarico che Marche Nord riassegna temporaneamente al dottor Michele Tempesta, direttore di rianimazione. Un incarico che Tempesta rivestirà il tempo necessario alle procedure di concorso per una nuova direzione. Marche Nord ieri ha pubblicato l'avviso di cessazione dei vecchi incarichi per richiedere entro il 20 gennaio i curricula agli interessati alla nuova direzione del reparto d'emergenza di Pesaro. Possibile dunque una nuova direzione così come un rinnovo dell'incarico a Ignudi. Intanto il pronto soccorso in questo inizio 2022 è tornato a respirare rispetto agli affanni di dicembre. Sono arrivati rinforzi di personale che a rotazione stanno attenuando la pressione sui medici che era divenuta ai limiti del sostenibile.